Neuromachine è un programma rivolto ad una fascia giovanile di età compresa tra i 14 e i 25 anni. I contenuti equilibrati e ironici fanno di Neuromachine un veicolo ideale di comunicazione culturale e multimediale. La grafica innovativa e sempre in rilievo costituisce una vetrina imperdibile per risporre il vostro prodotto. Per questo motivo legare il proprio marchio ad un programma sobrio e giovanile è garanzia di sicuro successo. Neuromachine, un programma giovane per i giovani.